Io penso che sarebbe auspicabile per il nostro Paese la possibilità di poter ritornare ad investire sulle infrastrutture, in modo particolare, come ho detto poco fa, permettere un riparo al dissesto idrogeologico e sismico del nostro Paese. Purtroppo stiamo scontando adesso problemi che vengono da lontano, perché non dimentichiamo che sono ormai 15 anni che noi stiamo viaggiando mediamente quasi un punto percentuale all'anno al di sotto della crescita dell'Europa, quindi dobbiamo fare un esame di coscienza e mettere mano ai nostri problemi. Un punto che io, se invece posso esternare una qualche delusione, è il discorso dei pagamenti della pubblica amministrazione, la battuta che ho fatto poco fa, perché era stato promesso da primo ministro un intervento nel giro di 30 giorni, poi ha modificato il tiro per San Matteo, quindi siamo a settembre, io avrei preferito per San Giorgio, che è il 23 aprile.